Mi sa che vi devo dare una brutta notizia, perché cominciano le scuole e dobbiamo tornare a scuola. Però forse non è una brutta notizia, perché dopo tanto tempo di attesa e dopo tutto il tempo della pandemia, un po' di voglia, di desiderio di tornare a scuola c'è in ciascuno di voi. E penso sia una bella occasione, perché la scuola non è solo il fatto che i prof un po' rompono, il fatto che dobbiamo avere gli orari precisi o che i genitori ci controllano se andiamo o non andiamo, ma la scuola è anche stare con gli amici, condividere, passare del tempo insieme e crescere insieme. Allora voglio farvi un augurio per quello che sia un anno bello, però vi devo anche fare una preghiera. State attenti alle regole che vi chiedono gli insegnanti e i direttori delle scuole di rispettare per la pandemia, perché dobbiamo camminare insieme e cercare di uscire da questo momento, però che sia un anno bello. Quindi, regà, mi raccomando, cercate di essere felici e di godervi questo tempo che vi è dato. Grazie.